Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Un gran dolore come un fulmine a ciel sereno per Barbara D'Urso, quando il 28 giugno scorso ha saputo che non avrebbe più salutato il pubblico dallo studio di Pomeriggio 5, che aveva in mano dal 2008 15 anni indelebili per Canale 5, per Mediaset sia quanto pare Lei non ci sta, torna nuovamente a parlare.Inevitabile non ripensare alla vicenda che vide Mike Bongiorno silurato da Mediaset dopo oltre 30 anni senza alcun avviso Si trovò senza contratto rinnovato, neanche Silvio, figuriamoci Pier Silvio Berlusconi quindi, gli avrebbe più risposto Simile sorte per Barbara D'Urso, ora parla del suo futuro senza Biscione Barbara D'Urso, il messaggio forte e chiaro. Trasferirmi a Milano senza i miei due figli per inventare uno show in diretta, tutti i giorni, mattino 5 24 ore di tempo per decidere, ha raccontato Barbara D'Urso nell'intervista a Repubblica, sul format che si è vista morire tra le mani, inizio l'avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi domenica live firmati da me come live non è la D'Urso che viene chiusa Motivo mai saputo. Ne ho sopportate tante, forse un giorno racconterò, ho messo la testa sotto l'acqua Perché lavoravo con passione. Ma, questa volta, no. Dopo aver ore di dolore e di un inguaribile senso di ingiustizia, la ex regina di Cologno Monzese è tornata a parlare senza servirsi di giornali e giornalisti rivolgendosi in prima persona al suo grande pubblico, suo orfano e viceversa Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma sono qui a dire grazie ad ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha dimostrato solidarietà A voi va la mia gratitudine. Col cuore non finisce qui, ha scritto su Twitter e, nel giro di pochi minuti, il post si è costellato di commenti di supporto, che hanno dimostrato quanto anche gli spettatori si hanno rimasti male Sempre con te, loro.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video